Mari, il più grande magastore dell'elettronica di Reggio Emilia e Parma. Antifurti, videosorveglianza, antennistica e tutto per l'elettronica. Da 50 anni ha il tuo servizio con qualità, professionalità e cortesia. Vuoi vedere in diretta tutti i gran premi di Formula 1? Seguili in esclusiva su Sky. Abbonati da Mari. In omaggio, un cellulare dual sim. Siamo in Viennoletti 17, zona non aria e su internet www.mariasarelle.it